Ha fatto tappa sciacca Mediterranea, la spedizione nautica che gira il mar Mediterraneo. Ad ospitarla la Lega Navale, dove ieri sera l'ideatore della spedizione e scrittore Simone Perotti ha presentato il suo ultimo libro. L'iniziativa fa parte del programma oramai della Lega Navale, della sezione Saccense, che si ripete di anno in anno. Sono circa 4-5 appuntamenti che si slogano nell'ambito dei 12 mesi, soprattutto ovviamente nel periodo estivo. E conseguentemente siamo in perfetta rotta per quella che è proprio la struttura, la funzione della Lega Navale stessa. Di Mediterranea, di cui il fondatore, ma anche delle tante storie dei popoli del Mediterraneo e del suo libro Raiss, ha parlato ai nostri microfoni Simone Perotti. Abbiamo il brutto vizio di solito di essere stati a Capri e a Lipari e pensare di sapere cosa sia il Mediterraneo. Il Mediterraneo è un posto straordinariamente grande, ampio, fatto di culture, fatto di diversità, fatto di storia, fatto di contemporaneità e che è molto difficile interpretare. Dato che ci sta così tanto a cuore ad alcuni di noi, ad un gruppo di noi, ci siamo decisi di intraprendere un viaggio, una spedizione per conoscerlo. A tre anni dall'inizio di questo viaggio, qual è l'idea un po' che iniziate a fare del Mediterraneo? Beh, che i politici sono una tragedia rispetto ai popoli, per esempio, perché i turchi sono persone meravigliose, ospitali, gentili, ci hanno ospitato dovunque, ci hanno aiutato sempre. E invece la burocrazia turca ci ha ostacolato sempre, come spesso fa quella italiana, peraltro. Noi ci siamo trovati esattamente nell'Egeo orientale e nel Dodecanneso, quando c'era la grande crisi greca delle migrazioni. Io ho dato una cima, una barchetta di migranti che non ci facevano più neanche arremare, perché erano sconvolti. Ho visto le loro facce, li abbiamo visti ammassati nella baia di Chios, abbiamo visto le spiagge greche in cui non si vedono più i sassi, non si vedono più gli scogli, non si vede più la sabbia, perché è uno stuolo di giubbotti arancioni salvagenti portati dalla corrente. Ho potuto osservare il contatto tra i caronte illegali e questi poveracci portati lì da autobus messi a posto dalla polizia turca al confine con la Siria, dove venivano attesi, presi, messi come i tifosi, messi in un autobus e portati. Quindi una cosa scandalosa che poi ha fruttato al governo di Erdogan dei miliardi non dovuti. Simone Perotti è scrittore, che cos'è Reis? Rimanda a quei paesi che si affacciano sul Mediterraneo? Beh, è un romanzo mediterraneo, è un romanzo che si svolge nel 400-500, che è l'epoca della grande pirateria, qui la scala dei turchi che non è tanto lontana da qua, richiama queste atmosfere. C'è stata un'epoca in cui la pirateria che noi conosciamo essere come quella caraibica dei film, Jack Sparrow, sono tutte anche queste colossali stupidaggini di celluloide, la grande pirateria millenaria che ha coinvolto milioni di persone è quella del Mediterraneo, non quella che è durata 200 anni nei Caraibi coinvolgendo poche migliaia di disperati. I pirati erano degli eroi, quando tornavano a casa, nelle loro case, che fossero pirati italiani o fossero pirati turchi o della barberia, poco importa, venivano festeggiati per settimane perché erano quelli che portavano i soldi a casa, portavano le sostanze perché intere comunità potessero vivere. Grazie a tutti.